Musica Cosa avviene fisicamente il giorno dell'Asta? Il delegato alla vendita, sia esso l'avvocato o il dottore commercialista o il notaio, aprono alla presenza di tutti i partecipanti le buste che sono state veicolate il giorno prima entro l'orario determinato nell'avviso di vendita. All'apertura delle buste si prenderà l'offerta che avrà all'interno l'importo maggiore che costituirà il nuovo prezzo base da cui si partirà per la gara tra i partecipanti. Questo importo chiaramente più alto sarà comunque incrementato di quel rilancio minimo che è indicato nell'avviso d'Asta. Al momento dell'aggiudicazione definitiva, e cioè quando alla declamazione dell'ultimo importo non seguirà un ulteriore rilancio da parte dei partecipanti all'esperimento d'Asta, la persona che avrà fatto l'offerta maggiore risulterà definitiva aggiudicatrice. Si tradurrà tutto questo in un verbale di aggiudicazione che il delegato alla vendita redigerà e che porterà all'attenzione del giudice. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'Asta? Individuato l'immobile vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al redderazionem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli. Nella realtà una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione e decreto di trasferimento consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile. Grazie